Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, sono Yassi e oggi sono qua come avete letto dal titolo per portare una rifondazione con l'Udinese con l'obiettivo di riportarla in alto come gli anni d'oro di Guidolin, con i vari Sanchez di Natale e tutti gli altri. Prima di iniziare lasciate un bel mi piace, arriviamo a 2000 mi piace per altri video di questo tipo e datemi dei consigli qua sotto per altre tipologie di video che vorreste vedere. Tra l'altro il video è sponsorizzato da Eneba.com, Eneba un sito che vende videogiochi, PSN Card, Xbox Live Card e un sacco di altri prodotti a prezzi veramente bassissimi, sito super super affidabili, appena comprate quello che volete prendere insomma vi arriva in tempo reale quindi non dovete aspettare, non ve lo spediscono ovviamente in casa, appena acquistate vi arriva il codice da riscattare, ci sono un sacco un sacco di prodotti, videogiochi ma soprattutto anche le PSN Card che io vi consiglio sempre, costano veramente poco. Io vi lascio in descrizione il link di Eneba.com, codice sconto IAS, mi raccomando, super super affidabile, ringrazio Eneba e ora andiamo con il video. Ed eccoci qua il primo luglio 2021, siamo pronti per iniziare la nostra avventura con l'Udinese, Udinese con un budget abbastanza buono, non è altissimo però insomma c'è di peggio. L'obiettivo sarà quello con questa squadra nel giro di tre anni di arrivare a giocarci la Champions League, l'obiettivo sarà quello di qualificarsi, quindi arrivare almeno al quarto posto e quindi cercheremo di arrivarci partendo da questa squadra che comunque ha qualche elemento interessante a partire dal portiere Silvestri che comunque è uno dei migliori della squadra, c'è Deulofeu, Beto è un attaccante molto molto interessante su cui sicuramente faremo affidamento a partire poi anche da Molina che è uno dei più forti della nostra squadra, Pereira che anche lui è il capitano della squadra, in generale ci sono poi dei giocatori interessanti, tanti giovani, tanti giocatori però che dovremo mandare via però insomma la rosa devo dire che mi piace abbastanza però già in questo mercato cominceremo a fare i nostri primi movimenti, con questo budget direi che possiamo andare a fare il mercato, ci vediamo alla fine del mercato. Siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato, come vedete abbiamo speso 32 milioni però ne abbiamo incassati 24 quindi abbiamo speso alla fine 8 milioni più o meno, quindi non abbiamo speso troppo sul nostro budget, siamo stati dentro ai limiti. Andiamo a chiudere il mercato, poi vi faccio vedere sia la rosa come l'ho piazzata ma soprattutto vi faccio vedere anche poi il nostro budget intanto che l'abbiamo usato bene, c'è rimasto un milioncino ma poi insomma non credo che riusciremo a fare qualcosa nel mese di gennaio a meno di cessioni, vi faccio vedere a questo punto la cronologia trasferimenti, vi faccio vedere tutto quello che abbiamo fatto a partire dalla cessione di Ialo allo Spezza per quasi un milioncino, per poi un milione e otto, Zegel ha andato al Watford, squadra che è collegata con l'Udinese tramite i Pozzo quindi insomma potrebbero esserci molte trattative con l'oro poi anche in Inghilterra è andato Nguinting per 3 milioni e 2, ottima cessione, Arslan Albrugge per 2 milioni e 6, Zapata poi è stato il primo acquisto dal San Lorenzo, ritorno all'Udinese, ho voluto insomma, mi serviva un difensore in più e siccome Zapata potrebbe essere un ottimo nome per 800 mila euro, è già decresciuto ma insomma l'ho preso più che altro perché è un ex Udinese quindi quello era il motivo poi sempre dall'Argentina è arrivato un esterno sulla sinistra, Ortega, 6 milioni e 2, ottimo colpo, giovane 22enne da far crescere ma che può far bene nel nostro centrocampo a 5 come insomma quinto di centrocampo poi è arrivato dal Brasile, Gomez, João Gomez, un centrocampista del Flamengo molto molto interessante, 20 anni, 73 di overall, molto molto completo che però deve ancora crescere tanto all'Udinese può insomma avere un'ottima ottima crescita, è arrivato poi anche un altro ex Udinese, dal Lille è arrivato Carnesis per 300 mila euro, ci serviva un terzo portiere che avevamo soltanto Silvestri Padelli quindi lui farà il terzo portiere, ritorno anche per lui al Napoli poi, ex squadra anche di Carnesis, è arrivata la cessione di Larsen per 9 milioni, ottima ottima cessione, credo anche quella più onerosa di questo mercato è arrivato poi dalla Spal per soli 4 milioni all'ultimo giorno di mercato, Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano, l'attaccante dell'Inter 4 milioni soltanto dalla Spal che è in serie B, pagato veramente veramente poco con una causa della rivendita abbastanza bassa italiano che ci voleva nel nostro Udinese perché poi a parte il portiere non c'era nessuno di italiano quindi volevo un altro colpo italiano ed è arrivato poi Elinio Maraviglia, ritorno all'Udinese, non potevo non prenderlo, 14 milioni e mezzo, acquisto più oneroso di questo mercato ma li vale tutti, ritorna all'Udinese, giocatore che è esploso letteralmente, era uno dei migliori della serie A se non il migliore in quegli anni lì era veramente qualcosa di clamoroso ed è un ritorno assolutamente gradito c'è stata poi la cessione di Wallace al Levante per 6 milioni e mezzo ed è poi arrivato come ultimo colpo in prestito con diritto di riscatto per due anni dalla Lazio Luca Romero che è un giovane molto molto interessante vi faccio vedere la formazione al volo dopo questo mercato, abbiamo fatto un 3-4-3 con diciamo il tridente abbastanza stretto Deulofeu e Alexis Sanchez che si piazzeranno dietro alla punta Beto ma in realtà potrebbe anche essere un 4, diciamo un 3-4-1-2 con Sanchez magari dietro a Deulofeu e Beto però insomma per ora li ho piazzati così, mi piaceva come idea questa formazione abbiamo a centrocampo Pereira e Gomez ma poi abbiamo anche Esposito, c'è anche Mack'n'Go che sembra abbastanza interessante abbiamo anche Samar, Zicce e Romero che sono più forse dei giocatori offensivi rispetto anche dei centrocampisti però insomma la squadra mi piace abbastanza, sicuramente va migliorata ancora però abbiamo un'ottima base di partenza l'obiettivo della dirigenza è quello della metà classifica, per me l'importante è salvarsi tranquillamente possiamo andare tranquillamente al calendario, andremo fino al 1 gennaio come sempre, simuleremo fino a questa data vedremo poi che punto saremo, dovremo essere minimo minimo secondo me al 15-14 posto però poi in realtà con la squadra che abbiamo possiamo anche fare meglio siamo giunti al 1 gennaio 2022, andiamo subito a vedere la nostra posizione di classifica siamo all'11 posto, non male, nel mese di dicembre avevamo avuto un paio di sconfitte, un pareggio in realtà stiamo andando molto bene, siamo sotto al Milan che sta andando malissimo sono i due punti quindi in realtà siamo a pochi punti, ora apro la classifica perché sono curioso siamo a pochi punti in realtà dall'Europa, come vedete diciamo che il settimo posto sarebbe Conference League dipende poi dalla Coppa Italia, devo dire che la Rosa sta crescendo abbastanza Molina è diventato 77, anche Gomez 75, Ortega è rimasto 73 credo, era già 73 quindi lui forse un po' mi ha deluso, Beto 77, anche la difesa comunque sta migliorando in linea generale comunque sono soddisfatto di come sta andando la Rosa ovviamente ragazzi si può ancora migliorare tanto, il problema è che il nostro budget è abbastanza nullo e vi dico la verità abbiamo speso comunque tanto, ah Ortega può cambiare ruolo e anche Sanchez credo che entrambi potrebbero avere degli upgrade, Ortega 77, ottimo 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 questo upgrade e li vado ad aumentare un po' il tiro, anche il piede debole quindi esterno va benissimo vediamo anche Sanchez che in teoria come COC potrebbe avere un upgrade, si diventa 80 ottimo anche l'upgrade del Nino Maraviglia che non è più tanto Nino però insomma noi continuiamo a chiamarlo così e io gli darei un bel attaccante ombra senza troppi problemi a questo punto ragazzi io vi dico la verità, farò il mercato, vediamo cosa riusciamo a fare perché tanto qualche esubero c'è ancora, magari potremmo vendere uno degli attaccanti uno tra Saxez e soprattutto Nestorovski, potrei vendere Michin e vediamo se riusciamo a fare un altro colpo anche se non saprei poi su cosa intervenire, vi dico la verità perché poi la Rosa secondo me si sta comportando bene quindi adesso vediamo cosa riesco a fare, al massimo poi avremo schippato sto mercato e andremo poi alla fine della stagione siamo al primo febbraio 2022, non abbiamo fatto assolutamente nulla c'era stato un assalto su De Lofeu che però ho deciso di tenere almeno fino a fine stagione poi valuteremo le offerte, ma soprattutto per Becao con la clausola scissoria è arrivata un'offerta ho deciso però di rinnovarlo perché non avevo voglia di andare su un altro difensore centrale volevo insomma tenere almeno fino a fine stagione questa squadra e quindi non rivoluzionare niente quindi poi come vedete abbiamo un po' meno soldi perché abbiamo fatto il rinnovo di contratto di Becao a questo punto ragazzi nella nostra classifica siamo sempre all'undicesimo posto, siamo sempre lì possiamo ancora lottare per l'Europa, vedremo cosa faremo in questa seconda parte di stagione comunque è difficile secondo me che arriveremo a qualcosa di europeo però sarebbe veramente tanta tanta roba andiamo fino al 23 maggio, vedremo come avremo chiuso questa prima stagione eccoci qua il 23 maggio 2022, abbiamo vinto le ultime tre partite di campionato quindi sono molto curioso di vedere la nostra classifica siamo arrivati al nono posto che non è per niente male metà classifica in realtà siamo poi nella parte sinistra della classifica quella insomma delle squadre importanti siamo arrivati dietro comunque da parte il Bologna, l'Atalanta, il Milan, la Roma, poi tutte le altre siamo arrivati anche davanti alla Sampa, al Torino, al Genoa, alla Fiorentina comunque tante squadre importanti, c'è anche il Sassuolo quindi devo dire che sono molto molto soddisfatto 54 punti al primo anno, non sono affatto male però ora direi che possiamo andare con l'inizio della prossima stagione e l'obiettivo sarà quello sicuramente dell'Europa è iniziata anche la seconda stagione questa è la nostra formazione abbiamo perso un po' di giocatori purtroppo che sono tornati dai presidi alcuni sono tornati abbiamo perso soprattutto Beto in attacco e Neuem Perez in difesa al loro posto c'è Benkovic e Saxese il resto della squadra comunque è quello sono tornati un po' di giocatori come Viseu, Cristo Gonzalez ma insomma un sacco di altri giocatori come lo stesso Lasagna, Baic però insomma la squadra va migliorata dobbiamo prendere sicuramente credo un secondo portiere di livello anche se io in realtà avevo in mente un portiere da prendere ora poi vedrete se riusciremo a prenderlo poi un difensore sicuramente dovrà arrivare perché poi Benkovic, Marie e Becao non sono abbastanza per quello che è il nostro progetto per il resto poi devo dire che forse una punta dovrebbe arrivare ora vedremo magari si potrebbe anche provare a cambiare modulo mettere magari Deulofeo e Sanchez in attacco con magari un trequartista che può essere Pereira e magari mettere titolari Gomez e Esposito potrebbe essere un'idea per risparmiare perché poi non credo che Beto riusciremo a riprenderlo vale sui 20-25 milioni ora comunque vedremo cosa fare sul mercato il budget non è male è maggiore rispetto a quello dell'anno scorso abbiamo 15 milioni quindi possiamo fare qualcosa di buono perché poi l'obiettivo sarà quello di costruire una squadra per puntare ad un piazzamento europeo andiamo col mercato vedremo cosa riusciremo a fare questo è stato il nostro mercato siamo partiti dall'acquisto del difensore centrale ne sono arrivati due una è manmana per 5 milioni più Pablo Marie che insomma va al River Plate lui che è stato comunque in Sud America anche al Flamengo pagato tanto ma comunque un ottimo ottimo centrale è arrivato Bonifazio a parametro zero ottimo anche lui ex Udinese è stato in prestito ma Ken Goh è passato in Premier League al Brighton per poco più di 5 milioni Lasagne ha venduto alla Samp per 3 milioni Viseo venduto al Talleres per 2 milioni e 4 insomma abbiamo fatto tante cessioni Baic è tornato dal presto dal Brescia 3 milioni e 9 quasi 4 milioni Cristo Gonzalez 4 e mezzo all'Underlecht Koulibaly per quasi 4 milioni al Santos Becao poi grossa cessione anche lui al Brighton per 12 milioni e mezzo ed è arrivato dall'Atalanta Sciutalo per 4 milioni e mezzo secondo me acquisto low cost anche lui ottimo che faremo crescere per ora si metterà in panchino Udo Ghil abbiamo tra virgolette riscattato era tornato all'Elas per 3 milioni Muriel poi grosso grosso ritorno all'Udinese per 28 milioni acquisto pioneroso finora di questo nostro video però tanta tanta roba Muriel che torna all'Udinese avevamo perso Beto Beto sarebbe costato più o meno lo stesso però ho pensato dai andiamo su Muriel che insomma ci sta che torni in attacco giocherà con Deulofeo e con Alexis Sanchez per un tridente veramente stellare e poi come ultimo colpo è arrivato Kovalenko abbiamo avanzato un po' di budget circa 5 milioni e mezzo spostando un po' il budget che potremmo usare per il mercato invernale vedremo poi a che punto saremo nel mese di gennaio fatto sta che comunque la rosa è veramente ottima Molina è un 80 di overall Pereira 80 e Ortega 79 tutti e tre sono con la nazionale argentina il che mi fa molto molto piacere abbiamo ripeto il tridente veramente forte con Sanchez Deulofeo e Muriel mi sono arrivate tante offerte per Deulofeo ma alla fine l'ho trattenuto la nostra difesa per il momento è quella voglio valorizzare Sciutalo quindi lo metto a titolare ma comunque c'è anche Bonifazzi del resto secondo me potevamo fare un attaccante in più però insomma siamo rimasti così sicuramente nel mese di gennaio cercheremo di fare qualcosina comunque sia a questo punto ragazzi io direi che possiamo andare a simulare per ora siamo a 4 punti dopo 2 giornate al sesto posto quindi siamo partiti molto molto bene andremo a simulare come sempre fino al primo gennaio questa volta vorrei essere almeno almeno al decimo posto però in realtà voglio puntare ad arrivare a fine campionato al settimo voglio l'Europa eccoci qua il primo gennaio 2023 andiamo come sempre a vedere la classifica uuuuh terzo posto oddio all'inizio avevo visto ottavo posto avevo visto un otto al posto del tre invece siamo al terzo posto non me l'aspettavo per niente stiamo volando con questa udinese siamo in piena zona champions alla seconda stagione metà della seconda stagione ma voglio vedere la rosa voglio vedere come stiamo andando e devo dire che la rosa sta crescendo sicuramente a livello difensivo si può fare meglio diciamo che magari potrei anche mettere Bonifazzi titolare con Sciutalo e Mammana però devo dire che in generale sta squadra mi piace veramente veramente tanto devo dire che possiamo fare qualcosina in più credo che sia andato via Romero magari per questo mercato potremmo fare qualcosa vedremo sono arrivato alla fine di gennaio ho fatto il calciomercato sono arrivate un po' di offerte ma le ho rifiutate per i nostri pezzi pregiati se ne parerà semmai poi d'estate vedremo poi quando arriveremo è arrivato però un attaccante è che Sebastiano Esposito in prestito con diritto di riscatto biennale quindi ottimo ottimo colpo 7 milioni se non sbaglio il riscatto quindi insomma veramente veramente poco sarà il nostro secondo terzo attaccante se la giocherà con Success siamo al quarto posto siamo ancora a meno 6 dalla Roma ma la classifica è veramente molto molto stretta come vedete basta veramente poco che ci ritroviamo fuori dall'Europa siamo insomma dal settimo posto 5 punti sopra andiamo a chiudere la stagione siamo usciti tra l'altro dalla Coppa Italia agli ottavi se non sbaglio fa niente ci concentriamo sul campionato ed eccoci qua il 22 maggio 2023 andiamo a vedere a che punto siamo arrivati siamo arrivati al settimo posto che in teoria dipende da come è andata la Coppa Italia cosa hanno fatto le altre ma potrebbe averci garantito comunque la Conference League intanto siamo arrivati a 5 punti dal quarto posto dove ha militato il Milan e dove è arrivato il Milan ha vinto il campionato la Juve vediamo un attimo la Coppa Italia chi l'ha vinta l'ha vinta il Napoli sul Milan il Napoli si è visto bene è arrivato in Champions League si è arrivato al secondo posto quindi in teoria magari mi sbaglio ma il nostro settimo posto è Conference League quindi abbiamo centrato l'Europa che era il mio obiettivo diciamo di inizio stagione poi insomma l'abbiamo sognato anche la Champions addirittura non abbiamo puntato neanche insomma l'Europa però siamo arrivati in Conference League che va benissimo per il prossimo anno sicuramente faremo meglio abbiamo comunque dei soldi da parte che si aggiungeranno al nostro budget Muriel si è fatto male ora direi che possiamo andare con la terza ed ultima stagione per centrare la Champions League riportare questa Udinese in Champions è iniziata anche la terza ed ultima stagione questa è la nostra formazione la conosciamo bene sicuramente per quest'anno quello che vorrei fare è magari cercare di migliorare qualcosina a livello difensivo sicuramente andrò a prendere un centrale titolare magari possiamo dare via Benkovic o comunque possiamo anche tenerlo come vedete abbiamo una rosa poco profonda quindi sicuramente anche perché avremo tre competizioni faremo qualche colpo anche per rimpolpare la rosa sicuramente quindi un centrale arriverà in generale comunque la rosa c'è dai andiamo con il mercato vediamo quanto abbiamo di budget perché non lo so ancora abbiamo 23 milioni che non è assolutamente assolutamente male eccoci qua il 31 agosto 2023 siamo giunti all'ultimo giorno di mercato all'ultima ora di mercato abbiamo speso quasi 50 milioni 37 di profitto quindi sempre come insomma l'Udinese siamo sempre lì a spendere non tantissimo perché ovviamente non mi aspetto che l'Udinese possa spendere troppi soldi senza diciamo la Champions League o almeno l'Europa League siamo in conference abbiamo fatto un ottimo mercato andiamo intanto a chiudere il mercato poi vi faccio vedere come sempre tutte le trattative che abbiamo fatto abbiamo preso Pinsoglio a parametro 0 ex Juventus sempre ex Juventus dal Paris Saint Germain e ex Udinese arriva Quadrado che è esploso all'Udinese a Lecce insomma anche alla Fiorentina ma insomma all'Udinese è passato è stato molto molto importante pagato 8 milioni ottimo colpo a parametro 0 poi arriva anche Romario Barò portoghese molto interessante che secondo me potrebbe fare molto bene da noi insomma di portoghesi mi ricordo soprattutto Bruno Fernandes che è stato per un breve periodo all'Udinese magari potrebbe ripercorrere le sue orme insomma un talento che può esplodere ancora ancora abbastanza giovane poi abbiamo preso un altro ex il portiere che finalmente sono riuscito a prendere la terza stagione ossia Andanovic per 2 milioni più Kovalenko che avevamo preso a parametro 0 l'anno scorso quindi insomma l'abbiamo pagato veramente poco abbiamo poi ceduto success al porto è arrivato poi a parametro 0 per l'attacco un ottimo colpo che è quello di Justin Kluivert che è già cresciuto a 80 l'abbiamo preso che era un 77 se non sbaglio valeva la metà ora già vale quasi 25 milioni quindi gran bel colpo per noi abbiamo poi ceduto Pereira per 30 milioni al Milan non potevo rifiutare questa offerta 32 anni insomma andava ceduto ma al suo posto torna l'Udinese uno dei migliori talenti usciti proprio dall'Udinese ossia Zielinski che arriva dal Sevilla per 36 milioni acquisto più oneroso del nostro mercato di questa nostra carriera con l'Udinese e poi è arrivato anche Simeone Giuliano Simeone sempre figlio del ciolo Simeone e fratello di Simeone quello dell'Ellas pagato 3 milioni 9 ottimo ottimo giovane 20 anni ed è stato anche l'ultimo colpo di questo mercato questa è la nostra rosa a mercato finito per puntare quest'anno a cercare di arrivare a quel quarto posto che l'anno scorso sembrava possibile siamo partiti bene con due vittorie siamo primi in classifica addirittura vi faccio vedere il girone di Conference League mi stavo dimenticando della Conference League andiamolo a vedere subito insieme non l'ho visto nemmeno io abbiamo visto adesso insieme la Z Alkmaar e un'altra squadra che non conosco che era il Rakov e poi c'è il Lask dai andiamo col primo gennaio 2024 speriamo di essere tra le prime quattro e poi vediamo cosa riusciremo a fare sul mercato siamo giunti al primo gennaio 2024 andiamo subito a vedere la nostra classifica siamo al quarto posto ok siamo a meno 4 dal Milan e siamo sopra Fiorentina e Inter di solo un punto quindi in realtà insomma siamo in zona Champions con il Torino e il Sassuolo quindi devo dire che per ora la classifica è un po' strana però dopo 18 giornate siamo lì il che è veramente ovviamente ottimo l'obiettivo è quello è il quarto posto dobbiamo raggiungerlo ad ogni costo direi di vedere al volo il girone di Conference League perché sono curioso di vedere se abbiamo passato il turno ma insomma credo di sì sì siamo passati come primi del girone sopra la Z-Alkmar con 12 punti molto molto bene quindi siamo direttamente agli ottavi di Conference League a questo punto ragazzi sul budget sì abbiamo sempre 2 milioni abbiamo rinnovato tra l'altro Alexis Sanchez prima insomma di andare avanti ho pensato vado a vedere quelli in scadenza che magari poi si arrabbiano poi li perdiamo ho rinnovato quindi Sanchez si è passato l'ingaggio quindi abbiamo un po' di soldi in più non so se riusciremo a fare qualcosa però se devo pensare ad un colpo che magari farei in questo mercato potrebbe essere un difensore centrale per avere la sicurezza tra virgolette di arrivare al quarto posto perché secondo me il punto debole è un po' la difesa vediamo cosa riusciremo a fare ora vedo di inventarmi qualcosa abbiamo fatto il difensore centrale si tratta di Nathan abbiamo ceduto Benkovic alla Lazio per ben 10 milioni e mezzo ho provato in realtà a fare altri centrali un po' più di esperienza ma con il budget non riuscivo ad arrivarci per poco per lo stipendio c'erano Nacho Fernandez c'erano i vari se non sbaglio Gabriel Paulista però poi insomma alla fine sono andato su Nathan che era quello che riuscivo a pagare poco per quello che poteva rendere 22 anni 76 forse anche più nel progetto dell'Udinese a questo punto ragazzi io direi che possiamo andare a chiudere questa stagione siamo ancora al terzo posto siamo a meno 10 dalla capolista al Milan però siamo lì che lottiamo con le altre per la Champions quindi in realtà è ancora tutto non aperto di più andiamo quindi al 20 maggio il giorno dopo l'ultima di campionato incrociamo le dita e speriamo ragazzi di essere in Champions League siamo arrivati anche alla fine di questa terza stagione non siamo in nessuna finale né di Coppa Italia né di Conference Coppa Italia in realtà eravamo già stati eliminati ai quarti se non sbaglio contro l'Inter andiamo a vedere se siamo arrivati in Champions League sarebbe un peccato non esserci arrivati quarto posto a due punti dal Sassuolo siamo in Champions League l'Udinese torna in Champions League dopo tre anni abbiamo riportato l'Udinese in Europa nell'Europa che conta questa volta sarà sicuramente in Champions perché non ci sono più i preliminari tanta tanta roba sono molto molto contento di questo risultato la Rosa è davvero davvero forte Muriel vabbè sta decrescendo a 33 anni ci può stare però insomma la squadra è veramente tanta tanta roba e devo dire che sono molto molto contento di aver portato questa Udinese in Champions League ditemi altre squadre che vorreste vedere in un prossimo episodio arriviamo a 2000 mi piace per un altro video di questo tipo per un'altra rifondazione un altro progetto carriera di questo tipo un bacione da Yas bella a tutti e quindi Grazie a tutti.